In Toscana accoglienza significa prima di tutto consapevolezza che le migrazioni verso l'Europa non sono più da bollare come situazioni di emergenza ma come fenomeno ormai strutturale con cui occorre fare i conti e che soprattutto deve essere gestito con procedure orientate all'inclusione sociale di chi arriva come lo spiega il Libro Bianco sulle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale umanitaria lo strumento che la regione toscana si è data per definire le strategie di accoglienza di chi arriva in cerca di un futuro migliore rispetto a quello che lo aspetterebbe nel proprio paese di origine un futuro che la Toscana intende garantire agli 11.725 migranti accolti in 898 strutture su tutto il territorio regionale per farlo il modello istituzionale adottato è quello dell'accoglienza diffusa i cui punti cardine sono definiti in modo preciso nel Libro Bianco frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni e soggetti che lavorano sul territorio abbiamo chiamato per la scrittura chi opera nel settore, le cooperative e i gestori, le prefetture, i comuni della Toscana questa sede della presidenza fu invasa a fine luglio da più di 300 rappresentanti di questo mondo si misero in queste stanze a fare dei tavoli di lavoro divisi per argomenti e per ogni singolo argomento dalla governance alla sanità alla formazione al lavoro sono state analizzate diciamo partendo dalle buone pratiche che ci sono sul nostro territorio che sono possibili perché in quest'anno abbiamo fatto una politica anche dell'accoglienza diffusa partendo da quelle sono state analizzate le criticità e detto quello che si deve fare per la stesura del Libro Bianco sono stati presi in considerazione i risultati di 200 progetti di accoglienza sperimentati concretamente in tutta la Toscana e questo ha permesso di stilare un elenco di principi che mettono al centro la dignità di persona del migrante, attribuiscono un ruolo chiave al territorio e stabiliscono gli standard minimi del sistema di accoglienza sulla cui attuazione la regione è stata chiara fin dall'inizio diamo volentieri una mano ma la diamo come intendiamo noi e cioè per piccoli nuclei perché come in tutte le cose, come in tutte le gestioni dei servizi è più facile gestire diciamo anche l'accoglienza se la si fa in piccoli nuclei perché le persone accolte stanno meglio, perché il quartiere d'intorno gestisce meglio questo rapporto nuovo che viene a instaurarsi al di là delle influenze che arrivano anche in Toscana dai media da un ragionamento generale sull'immigrazione però poi nella sostanza abbiamo visto che grandi problemi non ci sono stati Quello che fa la differenza in Toscana in materia di accoglienza è la volontà di andare oltre i bisogni primari del migrante in altre parole la volontà di inserirlo e di dargli un ruolo nel contesto sociale in cui si trova a vivere perché è lì che si crea l'integrazione e questo può accadere nelle città più grandi come nelle frazioni più piccole della Toscana ad esempio con progetti di volontariato come quello che ha visto i migranti impegnati nella pulizia degli argini dei fiumi è proprio lì che si creano i momenti di incontro con le comunità è dall'incontro delle persone poi che smettono di essere profughi e diventano un nome, un cognome, una faccia, una storia e questo favorisce anche l'integrazione e l'incontro gli atti che mettiamo a disposizione cercano di favorire tutto questo abbiamo fatto un bando proprio per spingere in questi lavori volontari non sta bene una persona tutto il giorno a non fare niente è il primo a non stare bene e non sta bene per chi lo vede stare tutto il giorno a non fare niente magari isolato e non dentro la cittadinanza dentro le persone, insieme alle persone e quindi questo è un modo di favorire stiamo studiando anche percorsi ci sono già delle esperienze di inserimento nella formazione piccoli lavori che ovviamente non devono confliggere con la situazione generale e la carenza di lavoro tirocini cose che se ci mettiamo tutti la testa e le gestiamo forse non creano quei problemi che paiono esserci problemi che spesso si basano su stereotipi e luoghi comuni che finiscono per falsare la realtà degli arrivi dei migranti nelle città e nei borghi della Toscana i dati a disposizione della regione dicono altro rispetto a quel che può sembrare in Toscana peraltro l'immigrazione rispetto agli anni passati non sta crescendo nel 2016 sono aumentate 5.000 persone 5.000 nuovi migranti e sono nati 5.000 bambini dai migranti già presenti quindi questo vuol dire che a netto dei richiedenti asilo non c'è un aumento della popolazione migrante per essere veramente integrati i migranti devono prima di tutto acquisire una buona conoscenza della lingua italiana proprio la formazione linguistica insieme all'inserimento socio-lavorativo e a un'efficace risposta alle necessità sociali e sanitarie dei migranti sono i punti forti della politica integrata di accoglienza in Toscana che ha puntato molto fin dall'inizio sui comuni dando loro la possibilità di gestire l'accoglienza senza subirla ormai non vi sono quasi più comuni che non hanno ospiti sul loro territorio io credo, ed il libro bianco su questo è molto preciso che questo dell'accoglienza debba essere trattato sempre di più come un servizio normale come trattiamo i servizi sociali, l'handicap e minori perché se vogliamo fare bene, quello che dicevo prima diciamo bisogna inserirlo in un contesto in cui può avere un legame con la sanità con la salute mentale, con la formazione da qui l'idea della regione toscana di costruire una politica dell'accoglienza in cui i sindaci dei singoli comuni siano sempre più protagonisti rispetto al passato nella gestione dei progetti che vedono coinvolti i migranti ospitati sui loro territori il sindaco dall'essere quello che spesso si ritrova sul giornale che c'è stata una gara e sul suo territorio la prefettura ha individuato un gestore e una sede sempre di più deve diventare quello che ha invece in mano la situazione cerca lui di presentare dei progetti sa lui quali sono i luoghi migliori per poterlo fare sul suo territorio i gestori migliori a cui affidarlo e se riesce a farlo questo favorisce anche il resto dei servizi per i cittadini perché laddove si fa con quelle risorse si possono meglio utilizzare anche le risorse per i minori, per l'infanzia, per gli altri servizi altrettanto importanti per questo il libro bianco prevede che accanto all'ente pubblico entri in gioco nell'accoglienza il tessuto sociale fatto di associazioni di volontariato e di categoria su questo si fonde il modello toscano che fa scuola a livello nazionale e che punta anche al rafforzamento delle relazioni con i paesi di origine da cui i migranti arrivano ma ora alla luce dei risultati raggiunti quali sono gli obiettivi e cosa può fare la regione per il futuro dell'accoglienza in Toscana? Può coordinare, può spingere tutti ad andare in una direzione di concreto governo delle cose che alla lunga se poi le persone vedono che i problemi non ci sono e le cose vengono risolte si toglie anche questo mito dell'invasione che nella sostanza dei numeri non esiste e si riesce io credo alla lunga anche a capire, a comprendere che quello che può sembrare un problema in realtà se governato bene può essere trasformato in una risorsa, in una regione anche la Toscana dove il numero delle persone anziane aumenta molto e il numero delle nascite diminuisce molto e quindi insomma forse bisogna pensare per tempo anche a disegnare un futuro che non sia domani o il prossimo mese ma i prossimi dieci anni altrimenti il sistema non regge. Grazie a tutti! Grazie a tutti!